Qui siamo in piazza Pueter e noi vogliamo che questa piazza ritorni ad essere la vera piazza del paese. Vogliamo quindi evitare che le macchine entrino in questa piazza e quindi favorire il loro passaggio sotto il ponte della chiesa in via 11 febbraio. Vedi togliendo le auto da piazza Pueter noi intendiamo favorire anche la pietanabilità di via Roma e quindi portare anche dei vantaggi alle attività commerciali che ci sono. A Ponte Lambro ci sono anche degli angoli incantevoli come questo, la passeggiata lungo il Lambro che noi vorremmo rendere più fruibile e più sicura anche attraverso una illuminazione corretta e vorremmo anche che venisse tenuto un po' più in ordine. E questo è il nostro ponte, noi lo vogliamo riqualificare perché torni ad essere il vero simbolo del nostro paese. E vogliamo che i nostri parchi siano degli ambienti protetti e sicuri per giovanissime famiglie. Buongiorno! E qui siamo in via Dalmazia, Lezza. Di questa via dobbiamo rivedere sicuramente la viabilità e lo faremo in accordo con i residenti della zona. Ciao Pietro! Ciao! Non c'è tuo papà? Salutamelo però eh! Ciao! Ciao! E queste sono le nostre scuole. Vogliamo accelerare il progetto di ristrutturazione della scuola anche rivedendolo alla luce di quelle che sono le esigenze delle persone che nella scuola ci lavorano e ci studiano. coglieremo poi l'occasione anche per rivedere e migliorare la piazza. mondo Grazie a tutti.